E anche questa Supercoppa ci ha regalato quel piccolissimo spettacolo indegno, non tanto magari sul campo dove il tutto è estremamente soggettivo e ci mancherebbe altro, ma sicuramente all'inizio del secondo tempo, prima dell'inizio del secondo tempo, ad onore del vero, beh, assolutamente sì. Perché sentire il popolo arabo di Riad fischiare il minuto di silenzio per una leggenda del calcio italiano come Gigi Riva è un qualcosa di vergognoso e che giustamente, come già stato detto, dovrebbe far terminare seduta stante ogni tipo di rapporto, quantomeno calcistico ovviamente, tra l'Italia e l'Arabia Saudita. Ma ho la netta sensazione che invece qui, vedendo soprattutto chi governa il calcio italiano, è ben disposto a questo e tanto altro, sarà sicuramente disposto a rimettersi nuovamente a pecora per qualche milioncino in più.